Oggi parliamo di colore e di come usarlo. Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per Te. Sì, oggi parliamo di come usare il colore all'interno delle opere d'arte. Ho scelto di parlare proprio sul corso di pittura di questo modo di utilizzare il colore perché la pittura è quella che da subito ci porta a prendere il tubetto, spremerlo sulla tavolozza e metterlo sulla tela. Molto spesso lo si fa questo in maniera del tutto casuale, senza dare un ordine mentale a quello che vogliamo sia il susseguirsi e la composizione cromatica di un'opera d'arte. Sbagliatissimo perché il colore parla della nostra opera come e più del soggetto disegnato e soprattutto come e più della composizione che abbiamo disegnato. Quindi dobbiamo stare attenti alla scelta del colore. Un quadro anche ben costruito con dei colori incongruenti appare debole, smorzato, svilito, molto spesso ingenuo perché un'opera viene detta arte e un'opera viene detta semplicemente un quadro, un dipinto perché uno storico dell'arte, un critico d'arte, quando si accosta alla visione di un'opera d'arte cerca determinate caratteristiche tecniche erudite che facciano di quell'opera un qualcosa che sia al di sopra della media. Per alcuni di voi sarà istintivo inserire i colori in un determinato modo che sia già giusto ma per altri no, la tecnica viene in aiuto ed è giusto conoscere le tecniche con cui si può rendere belli i nostri lavori. Allora, oggi parleremo della pittura per contrasti. La pittura è data spesso da contrasti. Tutti i grandi maestri dipingono per contrasti. La pittura per contrasti è quella che fa uscire un colore a discapito di un altro che fa uscire maggiormente la luce, che fa uscire di maggiormente i neri a seconda di quello che si vuole comunicare perché il colore è servile al messaggio e quindi dobbiamo scegliere il nostro contrasto ideale a seconda di quello che vogliamo dire. Il colore nel quadro è come fosse la parola mentre il costrutto è quella che è la sintassi, le regole grammaticali quindi adesso usiamo i termini giusti per comunicare il nostro messaggio. Primo contrasto, quello che molto spesso usiamo nell'iconografia è il contrasto di colori puri dove il colore viene usato in purezza quindi non miscelato sulla tavolozza con altri ma per esempio un blu prussia viene messo come blu prussia e un rosso magenta come rosso magenta e questo dà una pittura vivida, fresca, festosa in qualche maniera nello stesso tempo di impatto, di presa perché l'occhio riconosce subito la nonità di colore non deve crearsi una sintesi e quindi anche una lettura facile e immediata di quella che è l'opera d'arte proprio per questo nell'iconografia che era un messaggio divulgativo una preghiera veniva preferito questo tipo di pittura ma molti pittori hanno dipinto per contrasti puri uno per tutti, Sandro Botticelli uno tra i più famosi, tanti famosi ma uno per tutti, Sandro Botticelli dava un imprinting di impatto ecco perché lavorare per colori puri dà soprattutto impatto e fa sì che il colore preponderante prenda il sopravvento su tutto per esempio in questo quadro di Botticelli il compianto sul Cristo morto potete vedere come il nero prende la preponderanza su tutto e il discapito del blu, del rosso e del giallo che sono parimenti presenti all'interno dell'opera d'arte qui il messaggio funesto domina e domina nel colore puro usato così insieme senza miscellane del nero, del rosso del nero, del rosso e del giallo Andrean per esempio che delle sue opere a campiture di colori puri ne ha fatto veramente un mezzo espressivo di grandissima efficacia un altro contrasto bellissimo è quello che si ha tra contrasti nel contrasto tra i chiari e gli scuri cioè una modalità di pittura scelta in cui si vuole dare la preponderanza al contrasto tra la luce e l'oscurità scegliendo una gamma di colori che facciano esaltare ora lo scuro ora la luce usata tantissimo nella incisione nella xilografia ma anche nella pittura dove appunto la luce prende vigore proprio spinta in alto dagli scuri quindi i chiari e gli scuri quelli di cui vi parlo sempre per esempio nel disegno a graffite questo dà vita un tipo di composizione molto drammatica molto spinta in cui non ci sono molte mezze misure ma dove per esercitare una forza pregnante nell'opera d'arte devono esserci le chiavi più alte quindi i chiari più estesi e gli scuri più profondi con questo non intendo dire che la gamma di colori deve risolversi tra il bianco e il nero ma può andare da quello che è un bianco una vana e tutti i colori delle terre e i neutri fino ad arrivare fino agli scuri e quindi far interagire questi colori per dorare miscelare di oro i colori terrosi fino ad arrivare ai chiari giallissimi e bianchi un modo molto elegante per esplicare quella che è la drammaticità di un soggetto un altro contrasto che rende vivace il soggetto invece è il contrasto tra colori caldi e colori freddi di questo contrasto tra colori caldi e colori freddi ne è piena la storia dell'arte ma uno dei grandi pittori che lo fa proprio è sicuramente Auguste Renoir che tra colori caldi e colori freddi accostati per esempio negli incarnati dà quella freschezza e quella vividicità ai propri protagonisti che sono solo suoi colori caldi e colori freddi insieme hanno la caratteristica di attrarre molto l'attenzione con un occhio vivido e fresco e quindi lanciano un messaggio che sia di facile fruizione un messaggio che sia sprintoso lasciatemi passare il termine è un messaggio che tenga comunque lo spettatore sempre in continuo in continua attenzione e non faccia calare appunto quello che è il tono dell'attenzione sull'opera stessa se invece il messaggio che vogliamo dare è un messaggio di solidità di staticità di calma un messaggio di tranquillità di pacatezza sicuramente il metodo del contrasto ideale è il contrasto dei complementari dal contrasto dei complementari sicuramente si darà vita ad un equilibrio pressoché statico quindi delle forme pesanti delle forme presenti non dinamiche come abbiamo visto prima ma assolutamente invece statiche dipende tutto molto da quello che si vuole dipingere un qualcosa di rarefatto un qualcosa di eterno un qualcosa di fermo ecco che il contrasto tra colori complementari è quello che fa per voi direttamente dalla teoria del colore di Goethe è il contrasto per simultaneità dove alla presenza di un colore per esempio un colore presente come il giallo ne dico uno tanto per dire automaticamente l'occhio in assenza del complementare lo produca e lo faccia presente sulla tela sull'opera d'arte pur non essendoci questo è un genere di pitture un genere di rapporto cromatico che rende il fruitore protagonista della composizione dell'opera e quindi fa sì che il compositore venga catalizzato all'interno dell'opera stessa è una sorta di sfida con chi viene a guardare il quadro quasi come se il cervello di chi lo volesse vedere volesse anche completarne quella manchevolezza che in qualche maniera c'è ma anche il colore e il fruitore lo compone sicuramente questo passaggio catalizzerà l'attenzione in maniera veramente veramente importante di conseguenza molto spesso viene usata per catalizzare l'attenzione all'interno di ambienti che quasi si vuol far vivere a chi guarda il quadro è un tipo di pittura molto interessante ma anche molto difficile da portare avanti il contrasto di qualità invece è un contrasto che si basa sulla saturazione dei colori quindi a colori squillanti si fanno corrispondere colori un po' fuscati un po' sviediti e questo per fare in modo che alcune parti del dipinto siano in primo piano rispetto ad altre una sorta di focalizzazione di zoom su quello che si vuole comunicare dando l'atmosfera d'insieme ma tralasciando alcuni particolari naturalmente questo tipo di pittura lo si può utilizzare quando si vuole appunto focalizzare su un particolare e allora non si andrà direttamente a sfocare il soggetto ma si userà anche una campitura tonale tale da rendere più vivido quindi più puro il colore che è protagonista quindi che andremo a rapporre sul soggetto della nostra opera è più blando più sfocato più offuscato diciamo così il colore che invece vogliamo fungare a contorno da armonizzatore ma non da protagonista dell'opera d'arte per ultimo quello che secondo me è il contrasto più importante che dovrebbe esserci all'interno di tutte le opere e che è veramente qualitativamente evidente è il contrasto di quantità che deriva direttamente dall'utilizzo dello spettro cromatico all'interno dello spettro cromatico non tutti i colori hanno la stessa quantità d'essere l'arancio avrà una quantità differente rispetto al blu il verde e il rosso invece hanno la stessa quantità di persenza di conseguenza questi colori devono essere immessi all'interno dell'opera d'arte rispettando queste quantità questi rapporti quantitativi quindi facendo una scala proporzionale diremo che la proporzione del giallo è data da una parte di giallo e 3 di violetto la proporzione dell'arancio è data da una parte di arancio e 2 di blu la proporzione del rosso e del verde invece sono equiparate quindi a una parte di rosso deve corrispondere sempre una parte di verde costruendo così l'opera d'arte si avrà un'armonia di sintesi che dia quello che è un senso di armonia all'interno del proprio quadro per quanto riguarda l'armonia dei colori voglio qui suggerirvi perché ci sono oltre alla bibliografia che vi metto qua sotto nel box informazioni ho trovato delle nozioni interessanti anche sul corso di disegno oramai lo sto raccogliendo tutto quindi man mano che vado a trovare qualcosa di attivente con le nostre lezioni ve lo vado segnalando nel numero 22 anche in qualche numero precedente c'è la teoria dei colori newtoniana così come la sappiamo con primari secondari e via discorrendo mentre sul numero 22 di questa collana troverete appunto l'armonia dei colori di Menz che era un pittore il quale invece come teoria diceva che un quadro per essere armonico deve avere tutti i colori all'interno dell'opera tutti i colori che nascono quindi dallo spettro tutti i colori che nascono da uno spettro cromatico con il proprio complementare dall'altra parte in quantità via via coincidenti cioè che dal giallo si arrivi al complementare che dall'arancio si arrivi al complementare che dal rosso si arrivi al complementare e via via tutti quindi andando a inficiare il primo colore con il complementare finché il complementare non prende il sopravvento solamente da questa miscellanea di colori uscirà un quadro perfettamente armonico alla vista bene da questo momento in poi potete sbizzarrirvi a cercare su internet o all'interno di vari libri se trovo una bibliografia adatta ve la metto qua sotto nel box informazioni una serie di esempi infiniti potreste anche proprio giocare a cercare delle opere d'arte e a farle ricondurre all'una o all'altro tipo di rapporto cromatico in modo da capire quale sia stato il contrasto utilizzato da ogni pittore che voi guardate vi ho dato qualche spunto mentre parlavo è apparsa qualche immagine quindi da lì potrete cominciare a studiare veramente quelli che sono i contrasti cromatici e l'utilizzo adatto ad essi è quale sia quello più adatto alla vostra pittura e quello più adatto a quello che avete da comunicare spero che questo capire che il colore non vada immesso in maniera del tutto casuale all'interno di un'opera d'arte vi possa essere veramente veramente utile per rendere le vostre opere capaci di comunicare in pieno un messaggio il vostro messaggio io spero di essere state in grado di comunicare il mio di messaggio e mi dispiace tanto se mi vedete così accaldata ma credetemi veramente c'è un caldo pazzesco non mi nego che costa un po' sacrificio fare questo tipo di lezioni a luglio però mi faceva piacere darvi anche il tempo per metabolizzarle e per incontrarci di nuovo a settembre nel corso di disegno e continuare qui il corso di pittura in maniera più cosciente e consapevole ho intenzione anche di creare una playlist con tutta la teoria dell'arte dove metterò indipendentemente dal corso in cui l'ho pubblicato tutto quello che vi ho raccontato dal punto di vista teorico in modo che voi abbiate proprio un escursus completo di quelle che sono le cose importanti della teoria da conoscere e che quindi possiate approfondire in un ambito diverso da quello che è youtube perché capite bene che io qua non posso mettermi a fare delle lezioni prosopopeiche su quello che è la teoria del colore devo solamente darvi l'input e spero di esserci riuscita bene se il video vi è piaciuto mi raccomando anche solo per coccolarmi di tutto il caldo che sto prendendo perché devo stare anche con la finestra chiusa per farvi sentire qualcosa regalatemi un pollice in su e se questo video vi è piaciuto e avete curiosità lasciatemi un commento qua sotto io sarò lieta di rispondervi vi auguro una buona estate all'insegna della curiosità del colore del calore ma soprattutto all'insegna dello studio e dello studio divertito in modo da poter accrescere quello che è il vostro grande sogno cioè comunicare attraverso l'arte vi aspetto sempre su tutti i miei social facebook instagram qua sotto trovate i link iscrivetevi su instagram siamo ancora pochissimi lì e poi vi aspetto anche naturalmente su 2 colore e sul nuovo canale ombretta non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video da ombretta ed arte per te è tutto ciao buona estate colorata buona estate 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 buona estate